Quasi un milione di euro per liberare la Puglia dal 1.750.000 metri cubi di amianto. Due le linee di intervento che la Regione Puglia ha previsto. La prima, rimozione e smaltimento di rifiuti lecitamente abbandonati su aree pubbliche. La seconda, invece, rimozione e smaltimento di manufatti di amianto in aree private. I comuni ammessi al primo finanziamento sono soltanto 12, tra questi Bitonto, Gravina in Puglia, Andre e Terrizzi. Per un totale di 335.000 euro. Restano fuori al momento tutti gli altri, pur avendo presentato progetti finanziabili. E tra questi Binetto, Corato, Grumo Appula, Modugno e Palo del Colle. Un progetto, quello della Regione Puglia, che rientra nell'adozione del piano regionale amianto in base alla legge 257 del 1992. Smaltire una tonnellata di amianto in discarica costa 75 euro in Puglia, nell'unico impianto autorizzato di Galatone in Salento. Da un censimento effettuato dalla stessa Regione Puglia, dal 2005 nella nostra regione risultano 5.000 tetti in amianto. Basta farsi un giro a Modugno e Bitonto e accorgersi che c'è molto ancora da fare. Così come resta risolto il problema delle campagne incustodite, che diventano scenario ideale per sversare amianto. Un esempio è nella zona Trapparo del Colle, Binetto e Bitetto. L'amianto ormai sbriciolato dal tempo e dalle piogge è pericolosissimo. Basta una minima quantità invisibile per procurare il mesotelioma. Basta una minima quantità invisibile per sversare amianto.